9.20 siamo di nuovo in onda dagli studi padre Marciano Morra, continuiamo a parlare di pace e lo facciamo nel posto più importante con Frasergio Galdi d'Aragona che lo accogliamo con grande gioia, commissario generale di Terra Santa. Buongiorno Frasergio e benvenuto tra noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito. Insomma, tema importante oggi, vogliamo parlare un po' di quello che succede in Terra Santa. Inizio del conflitto israelo-palestinese 7 ottobre 2023 alla luce degli ultimi eventi. Com'è la situazione in Terra Santa? Innanzitutto, certamente il conflitto israelo-palestinese ha delle radici molto più antiche insomma, quindi che affondano, le motivazioni affondano realmente nella storia dell'ultimo secolo. Chiaramente il 7 ottobre c'è stato questo evento particolarmente drammatico che ha portato ad una profonda recrudescenza del conflitto israelo-palestinese. E dunque attualmente la situazione continua ad essere profondamente drammatica, particolarmente drammatica, perché poi tutto quanto questo conflitto che è stato, questi attacchi che ci sono stati da una parte, questi attacchi veramente anche barbari che ci sono stati da una parte e una risposta particolarmente sovradimensionata dall'altra e anche un senso di responsabilità collettiva che è stato imputato un po' al popolo palestinese. Questo fa sì che parlare di pace in questo momento realmente sembra quasi una chimera. Noi come persone di fede dobbiamo credere nella pace, dobbiamo credere che sappiamo che la pace realmente sia un dono di Dio. In questo momento la situazione è particolarmente difficile, particolarmente complicata, ci sono timori di un'escalation regionale del conflitto, come abbiamo ascoltato anche nei giorni passati per quanto è accaduto e per quanto abbiamo letto sui giornali. Questo poi, tutta quanta questa situazione così drammatica e difficile, intricata sotto un profilo geopolitico, ha delle fortissime e profondissime ripercussioni nella vita quotidiana della popolazione locale particolarmente. Certo, che ne stai sentendo molto, certo. Assolutamente, perché la popolazione palestinese, particolarmente ad esempio in questo momento se parliamo della popolazione palestinese, la popolazione palestinese vive fondamentalmente di due indotti, un indotto legato al turismo religioso e dunque ai pellegrinari che si fanno in Terra Santa, che praticamente dal 7 ottobre sono totalmente fermi. E dunque questo ha portato ad una immobilizzazione sotto un profilo economico di tutta la situazione. Inoltre poi il secondo indotto che alimenta, che sostiene la popolazione palestinese è dato proprio dai palestinesi che lavorano in territorio israeliano e che quindi si muovono dalla Cisgiordania, dal West Bank, si muovono per andare a lavorare nello Stato di Israele. E dopo il 7 ottobre, con la chiusura dei valichi, questo ha fatto sì che la popolazione, i palestinesi non si possano muovere. E dunque questo provoca una immobilizzazione per quanto riguarda le possibilità, ecco, di impegno, di lavoro da parte dei palestinesi pressoché nulle. Anche perché poi, per contro, Israele ha sopperito alla mancanza di tutti questi lavoratori palestinesi, ha sopperito facendo giungere molti immigrati dall'India, dallo Sri Lanka. Per cui quando anche dovesse terminare il conflitto, questa parte insomma del conflitto a Gaza, logicamente sarà difficile far tornare tutti questi immigrati che sono venuti dall'Asia, farli ritornare a casa. Per cui molti palestinesi si troveranno senza lavoro. Ma infatti il problema è proprio questo delle guerre, che è il popolo a pagarne le spese poi, e questa è la cosa, il dispiacere più grande. Certo, e lo scotto che stanno pagando è realmente altissimo. E bisogna dire anche che da parte israeliana, Israele, il mondo ebreo ha vissuto quell'attacco feroce del 7 ottobre nella propria coscienza collettiva, lo ha vissuto come una nuova Shoah. E quindi sono rimasti particolarmente toccati, colpiti da tutto questo. Quindi la compagine del geopolitica al momento è realmente particolarmente intricata, anche se bisogna dire che ci sono larghissime frange di popolazione, sia dall'una che dall'altra parte, che desiderano invece il dialogo e desiderano la fine della guerra. E speriamo che siano loro a vincerla. Fra Sergio è un piacere ritrovarti. Ti ringrazio perché ci stai offrendo uno spaccato anche diverso rispetto a quello a cui purtroppo quotidianamente assistiamo. Tante volte, troppe volte, forse direi quasi sempre, il rumore delle bombe purtroppo è molto più forte, potremmo dire così, di tante situazioni che poi in qualche modo tu ci stai raccontando, ma che anche poi riassumono il senso e il significato purtroppo di una guerra, di un conflitto così tremendo. Vorrei chiederti allora a proposito del vostro impegno, l'impegno dei frati minori che sono i custodi da sempre, della Terra Santa. In qualche modo, come la vostra presenza può essere uno sprone per seminare, potremmo dire così, questa pace che purtroppo stenta a fiorire? Sì, ebbè, questo è stato l'impegno di noi francescani che da 800 anni noi viviamo in questa fetta di mondo, in Medio Oriente, e che ci spendiamo per essere un elemento di dialogo. La presenza cristiana in Medio Oriente è estremamente esigua. Noi siamo soltanto l'1,5% della popolazione, ma siamo una presenza molto significativa, in quanto noi realmente costituiamo come cristiani un collante tra le varie istanze presenti sul territorio. E come francescani di Terra Santa, beh, noi ancora oggi, con tutto questo conflitto così, con la recrudescenza anche di questo conflitto, noi stiamo continuando la nostra opera. Un esempio è stato anche il portare oltre 100 bambini di Gaza nei vari ospedali italiani, che avete sentito che è accaduto mesi fa, che sono un po' distribuiti tra i vari ospedali e cliniche pediatriche d'Italia. E tutto questo si è avuto grazie al profondo impegno di Padre Ibrahim Faltas, che è il nostro vicario custodiale, e che cura le relazioni con il mondo, particolarmente le relazioni con il mondo israeliano ed il mondo arabo. e dunque con la collaborazione del governo italiano, che ha mostrato grande sensibilità e grande attenzione a questo tema, noi siamo riusciti a portare qui, a far venire in Italia, oltre 100 bambini che necessitavano di queste cure. Noi continuiamo ancora oggi, anche durante questo conflitto, e sapete, questo conflitto ha portato a galla tanti fantasmi nell'armadio, nel senso che le posizioni delle persone provenienti da ambienti differenti, da popoli diversi, prima comunque si continuava a stare insieme, a dialogare, a lavorare insieme. Dopo il 7 ottobre, colleghi di ufficio che provengono da realtà differenti, oggi non si rivolgono più neanche alla parola. Quindi le ferite che dovranno essere rimarginate dopo questo conflitto di Gaza, sono realmente delle ferite che richiederanno oltre 20-30 anni. Però noi nonostante questo, ancora oggi, qui a San Salvatore, io mi trovo negli uffici della Curia Custodiale, a San Salvatore e a Gerusalemme, ancora oggi noi abbiamo un piccolo miracolo, il Magnificat, che è una scuola di musica fondata da noi francescani, e ancora oggi, durante tutto il conflitto, anche subito dopo il 7 ottobre, i professori di musica ebrei hanno continuato a tenere le lezioni ai nostri ragazzi, bambini, allievi, che sono sia ebrei, israeliani, arabi, cristiani, arabi, musulmani. Dunque noi continuiamo, per mezzo anche della cultura, dell'arte, per mezzo delle nostre scuole, ecco, manteniamo viva questa speranza, perché soltanto creando cultura, sensibilità e raffinando le sensibilità, allora si può pensare realmente in un futuro differente. Fra Sergio, tu ci hai descritto il brutto della guerra, ma con questo segno di speranza, ecco, insomma, ci hai un po' aperto il cuore, potremmo dire così, e noi ti ringraziamo per questo. Purtroppo il nostro tempo corre in televisione, come tu ben sai, è tiranno, ci dobbiamo salutare, ma ci ripromettiamo nelle prossime settimane, insomma, di tenere questo canale aperto con la Terra Santa, perché è fondamentale continuare a parlarne, lo abbiamo detto anche prima, non ci si deve mai abituare al brutto della guerra, ma i segni di speranza, come quelli che tu hai appena citato, devono essere il motivo per far sì che la pace debba essere il sogno di tutti. E noi per questo ti ringraziamo di cuore. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per avermi anche dato questa possibilità di poter dare voce, ecco, a una realtà così drammatica della Terra di Gesù. Grazie, grazie di cuore, fra Sergio Galdi d'Aragona, commissario generale di Terra Santa, un caro saluto, un abbraccio anche a tutti i tuoi confratelli, a tutti coloro i quali stanno vivendo questa situazione davvero drammatica. Grazie di cuore, andiamo in pubblicità.